la mattina presto siamo già qui a alla piazza di carloforte come si chiama questa piazza piazza repubblica piazza della repubblica vieni qua che salutiamo salutiamo l'amico che sta lavorando lui è uno dei cantanti di carloforte questo questo è mirto che non canta stamattina ma andiamo a lavorare adesso andiamo